E' il momento di presentarvi un gruppo molto importante, un cluster del settore della sanità che si sta occupando di temi fondamentali perché sta creando eccellenza nel settore della lungodigenza, del settore dell'hospice, del settore anche dell'assistenza domiciliare. Non vi dico altro ma vi presento il responsabile della comunicazione Gianluca Melillo Muto, responsabile della comunicazione Medica Group Holding. Buonasera. Buonasera Diego, buonasera agli spettatori. Allora ci presenti brevemente che cos'è la Medica Group Holding? Allora, la Medica Group Holding è un'azienda, in realtà una start-up da un certo punto di vista perché è nata da poco sulla fortissima volontà e sensibilità personale del nostro presidente che è Riccardo Starace per fare una sanità che fosse un po' diversa dal solito, che fosse, lo dicono in tanti, noi speriamo di farlo davvero, ne siamo convinti e speriamo, fino adesso i feedback sono solente positivi, una sanità che sia più a misura della persona rispetto alle sole necessità del paziente. Cioè, prima del paziente c'è la persona. La persona vuol dire chi ha un problema di salute, la persona vuol dire anche la famiglia di chi ha un problema. Noi accogliamo sia il malato, sia la sua famiglia, tant'è vero che per esempio da noi è possibile rimanere a dormire con il paziente, abbiamo studiato molte delle nostre camere che hanno la possibilità di avere, hanno un divano letto molto comodo e in cui si dorme qualora ci sfida la necessità di fare una notte o di rimanere o di voler restare con il proprio paziente, come anche poter mangiare da noi. È una modalità un po' diversa. Siamo, in questo momento parliamo tra l'altro di hospice, so che è un tema che anche per te è estremamente sensibile. E l'hospice che abbiamo al Casilino, aperto da poco, già convenzionato in buona parte con il Servizio Unitario Nazionale, la Regione fondamentalmente, è una struttura molto particolare, molto bella, che tra l'altro io invito tutti, te compreso, a venire a vedere. Faremo una visita allora. Ma quando vorrai, quando vorrete. È costruito intorno alle necessità del paziente, dei familiari del paziente ed è stato realizzato anche concettualmente rispetto alle richieste che ci hanno fatto gli operatori. E non parlo soltanto dei medici, ma anche degli operatori sociosanitari, degli infermieri. Cioè, banalmente, noi abbiamo cercato di semplificare il più possibile, per cui rendere più agevole e più piacevole, il lavoro anche degli operatori. Ciò significa che viviamo in una situazione in cui stanno bene gli operatori, stanno bene nei pazienti, o meglio, sono ben curati i pazienti, perché alle volte ci sono delle patologie, ovviamente, gravi. Diciamo anche che l'ospis, a volte, ci sono anche... Lungoteggenze. Pure del dolore, quindi, cioè, terapie palliative, fine vita. Per cui stanno bene, per quanto possibile, in situazioni a volte di grande gravità e di grande disagio. Però cerchiamo di rendere il più confortevole possibile tutta quella che è la loro permanenza, che sia breve, che sia lunga o che sia, purtroppo, la fine del loro percorso di vita. E ci teniamo molto, tant'è che Riccardo ha fatto delle scelte anche che vanno un po' a impattare sulla parte economica, perché comunque parliamo di questo. Ce l'abbiamo, penso, una foto di te e Riccardo, vediamo se la regia ce la può mettere in onda. Questa foto è una foto a cui tengo in maniera particolare, perché è un qualcosa che riguarda anche te, in realtà, in altra veste, perché è la conferenza stampa di presentazione del cortometraggio che abbiamo voluto realizzare, perché per noi è fondamentale la comunicazione di ciò che sono, da un lato i problemi e da un altro la vita di chi soffre, sull'Alzheimer con Loretta Goggi. Quello però lo affronteremo verso la fine dell'intervista. Allora, adesso ritorniamo all'importanza di un'attività che sta facendo la Medica Group Holding, cioè quella della Medica Group. Mi hai fatto venire, mi hai fatto, diciamo, pervenire un video importante e lo vediamo subito insieme. Vediamo il video. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Medica Group, al centro della nostra attenzione, c'è il rispetto della dignità del paziente. Questo è un centro importante per voi, giusto? Assolutamente sì. È un nuovo modo di fare questo tipo di sanità. Cioè prima dicevo che la scelta che ha fatto Riccardo è stata quella di puntare su qualità ed eccellenza anche non dovuti, perché molto spesso anche strutture di grandissimo livello, e ce ne sono tante, si cerca di fare quanto previsto, e difficilmente un po' di più, perché si guarda anche il profitto. Parliamo comunque di imprese, come la nostra, tante altre sono accreditate, ma sono aziende comunque private, per cui devono far quadrare i bilanci per far sì che tutto funzioni. Nel nostro caso Riccardo ha fatto una scelta in cui conta un pochino meno il bilancio e molto di più la qualità dei servizi erogati sia ai pazienti, sia al personale. Per esempio, tu prima parlavi del fine vita. Immagina cosa vuol dire per degli operatori che accompagnano per periodi anche lunghi, delle persone verso la fine della loro vita, o comunque che vivono delle situazioni di lungodeggenza particolarmente gravi. Da un punto di vista psicologico è estremamente impattante e in molti casi la maggior parte delle strutture non si interessano di questo aspetto dei propri operatori. Noi per esempio, a tutti i nostri operatori, forniamo l'assistenza psicologica, graditamente un servizio che diamo noi, che ha un costo importante, ma per noi è più importante che anche gli operatori, che sono la colonna portante delle strutture, stiano bene, tornino a casa sereni o se hanno, o quanto più possibile sereni si possa essere, che abbiano l'opportunità di affrontare situazioni difficili nel miglior modo possibile. Questo è il modo di fare sanità di Medica Group Presidio Sanitario, ma di Medica Group Holding, che è poi la società che gestisce Medica Group e che si occupa anche di altri temi, sempre legati al socio sanitario, e che sempre di più, con i soci della società, mi riferisco al gruppo Sapio, sta crescendo in questo modello di sanità, che è un modello che sembra banale, perché in teoria dovrebbe essere questo il modello, cioè dovrebbe essere la qualità del servizio, la qualità della vita delle persone che soffrono, prima o quantomeno al pari dell'interesse economico, perché fare sanità, a nostro parere, a mio parere, a nostro parere, non è un business come gli altri. È forse una delle attività più importanti che ci possano essere. Tu curi le persone, tu accompagni le persone alla fine del corso. C'è una sensibilità diversa. Ci deve essere una sensibilità diversa, altrimenti diventano numeri, e se diventano numeri assistiamo a quella famosa mala sanità che ci fa stare male, ma ci fa stare male umanamente. Vediamo quanta passione, infatti, si affrontano questi temi. Vediamo a Palermo come, tra virgolette, hanno rappresentato l'esigenza del maggior servizio di hospice. Vediamo questo servizio giornalistico da Palermo. Noi siamo veramente felici di questa iniziativa, che è molto importante, perché negli ultimi anni la richiesta di ricovero in strutture residenziali come l'hospice è notevolmente aumentata, perché sono aumentate tutte le patologie croniche degenerative, invalidanti, oncologiche e non, e perché c'è stata una notevole sensibilizzazione agli hospice come strutture per tutto quello che possono offrire e quindi anche alle cure palliative. Tutto questo è stato possibile grazie alla sensibilità e all'impegno del nostro nuovo direttore generale, la dottoressa Faraoni. Sicuramente questo ci permetterà di dare delle risposte più immediate, di abbattere le liste d'attese e quindi di migliorare notevolmente l'assistenza. È il paziente terminale, cioè il paziente inguaribile, che non può essere più suscettibile di terapie rivolte alla guarigione. Ma ricordiamoci che è un paziente abbastanza complesso, con notevole esigenze assistenziali, a cui devono essere rivolte delle cure che vanno sia alla cura del sintomo, in particolare al dolore, ma tutti i bisogni del paziente. E non scordiamoci che per ciò che riguarda l'assistenza deve essere rivolta anche ai familiari che necessitano di un notevole supporto. Ed è proprio per questo che da un anno circa abbiamo creato un gruppo di automutuaiuto in collaborazione con l'INAIL, direzione territoriale Palermo-Trapani. Il gruppo era rivolto ed è rivolto ai familiari dei pazienti degenti nella nostra struttura e ai familiari degli infortunati sul lavoro. È stata ed è una bellissima esperienza. Abbiamo potuto anche così evidenziare come c'è tanta necessità di essere aiutati, di non essere abbandonati da parte dei familiari in questa fase diciamo particolare. E questo ci ha permesso anche di diventare, di far vedere l'hospice in una luce diversa. Noi siamo diventati un punto di riferimento e l'hospice in un certo senso è diventato un po' la loro casa. In collaborazione con gli altri hospice cittadini abbiamo fatto in modo che il paziente che arrivi in maniera impropria al pronto soccorso possa soggiornare ed essere quindi sottoposto ad un'assistenza che in quel momento non è certamente quella adeguata. Per cui abbiamo dato la priorità e ci siamo dati molto da fare per cercare di trovare un posto di degenza in uno dei tre hospice cittadini. Ecco, questo basta solo che a confermare l'importanza anche dell'attività che fa Medica Group rispetto a questo. Immagino che troviate ecco le stesse esigenze e state mettendo in piedi anche voi una maggiore progettualità di supporto a questa esigenza per i cittadini. In realtà guarda Diego, tanto è vero quello che dice la dottoressa nel servizio che per esempio noi siamo stati contattati da un comune di una regione del sud Italia perché avrebbero necessità di aprire o comunque di far sì, no aspetta non è vero, non è esatto, in quel caso le strutture c'erano ma non hanno i soldi per gestirle, la regione ha delle difficoltà a stanziare le risorse che servirebbero e hanno chiamato noi per capire se potremmo dargli una mano. Noi siamo andati, ci siamo messi dall'altra disposizione, chiaramente noi possiamo andare a operare quando c'è un quadro normativo di riferimento, parliamo quello che dice Vite, il servizio sanitario della regione che è chiaro. Molto spesso, perché dico questo? Perché molto spesso accade che le istituzioni recepiscano con un certo ritardo le esigenze che arrivano dai cittadini. Vale per il sud, vale per il centro, vale anche per il nord. Nelle città grandi in particolare, dove si corre sempre tanto, ci sono tantissimi abitanti e calcolando che tra le altre cose la soglia di vita aumenta, la necessità di hospice aumenta ogni giorno. Adesso, nel concreto io credo che purtroppo non ci siano risorse per venire incontro a tutte le richieste di hospice nella rete e nel servizio sanitario nazionale. Però una cosa su cui noi puntiamo molto e che ritengo anche il governo, le istituzioni puntino o dovrebbero farlo, è sull'assistenza domiciliare integrata, la famosa ADI. Perché dico questo? Perché in moltissimi casi tante patologie potrebbero essere curate in questo modo, a casa. In molti casi non è possibile perché, per dire, prima la dottoressa parlava di malattie anche neurodegenerative. Un paziente che è affetto da una malattia neurodegenerativa, Alzheimer o altre, non può stare a casa. O meglio, ci può stare fino a un certo punto, poi diventa molto pericoloso per se stesso e per gli altri, per cui va gestito in una struttura che abbia le idonee caratteristiche. Però per molte altre patologie si potrebbe tranquillamente gestirli da casa. E secondo me, secondo noi, andrebbe, bisognerebbe lavorare di più in questa direzione. So che il Ministero della Sanità ci sta pensando, ha un occhio, una notevole attenzione sul tema, anche perché, ripeto, se la coperta è corta, tiri da una parte e scopri un lato, tiri da un altro e scopri l'altro lato. Per cui cercare di razionalizzare costi rispetto ai benefici, rispetto alle esigenze dei cittadini, è fondamentale. Specie in un paese come il nostro che io non sono un allarmista. Io non credo che l'Italia sia un paese in recessione, crisi devastante, eccetera. Abbiamo i nostri problemi, abbiamo delle difficoltà, però siamo un popolo di persone che si rimboccano le mani, che si danno da fare e i problemi cercano di risolverli. Prima sentivo l'intervista precedente che parlavi delle capacità, anche quando c'è la volontà di fare grandi cose, mi pare parlassi del ponte Morandi, se non ricordo male. Il concetto è lo stesso. Diciamo che l'Italia è anche quella che sa organizzare il cantiere del ponte di Genova, e quindi è visto l'eccellenza. Però l'Italia è anche, purtroppo, tanta alta difficoltà. Vediamo, soprattutto sulla lunga degenza, una manifestazione che ha cercato di riaccendere l'attenzione delle istituzioni su questo, che si è fatta in un'altra città italiana. Vi diamo il servizio. In settimana tutti e 17 i sindaci del comprensorio mirenese Riviera del Brenta hanno manifestato davanti agli ospedali di Dolo, Mirano e Noale il loro dissenso sui contenuti delle schede sanitarie della Regione Veneto. I medici erano già in agitazione da giorni, dove si sono susseguiti assemblee e spunti per una protesta efficace che porti a una più equa, dicono, redistribuzione dei tagli, che penalizzano in particolare la lunga degenza di Noale. Si parla di 74 posti preziosi per tutta la comunità. Nei posti detto che la Regione taglia attraverso le nuove schede ospedaliere che non prevedono una riorganizzazione della sanità veneta, ma solo un taglio lineale, un terzo è all'interno dell'Ulustra Serenissima. Di quello un terzo, cioè 169 posti letto, oltre 150 gravano sul territorio di Dolo, Mirano e Noale. È una cosa che noi non possiamo tollerare. Spiegazioni che avete chiesto o che in qualche modo cercate di trovare? No, le spiegazioni hanno due livelli. Il primo, la preoccupazione perché con la carenza di organico che c'è in questo momento all'interno delle aziende, soprattutto nell'Ulustra Serenissima, non vorremmo che questo taglio di posti letto fosse funzionale per recuperare il personale, per poi rinvestire all'interno dell'azienda nelle carenze. Faccio un esempio. Su Noale tagliamo 74 posti letto di lungo esigenza e abbiamo 80 persone che ci lavorano. A Dolo togliamo 14 posti letto di ortopedia e, guarda caso, in altre realtà dell'azienda mancano ortopedici. Non vorremmo che cominciasse il tour della mobilità del personale. Che tipo di penalizzazioni dunque? Per il personale l'ha accennato ma anche per l'utenza? All'utenza è che questo pezzo di territorio perde 104 posti letto per acuti. A fronte di una situazione oggi dove abbiamo gente negli appoggi, cioè gente che è in tutti i reparti pur di trovare un posto letto. Ci domandiamo, ma se tagliamo tutti questi posti letto, dove andrà la gente, visto che le strutture intermedie non coprono questa carenza di postazioni? E soprattutto, se tagliamo i posti letto e il territorio non è ancora in grado di sopportare una gestione territoriale del paziente, il paziente dove troverà risposta? Una situazione particolare è quella di Noale. Sui 150 posti che si diceva, 74 sono qui in lungo esigenza. Sì, Noale, 74 posti letto di lungo esigenza riabilitativa di indirizzo medico nella quale vengono riabilitati pazienti post-cardiochirurgici che provengono dalla cardiochirurgia di Mestre, pazienti post-traumatologici con fratture di femore. Però ci sono pazienti casi sociali, stati vegetativi persistenti, malati terminali in attesa di collocamento in hospice per le cure palliative e comi. L'ospedale di comunità a cui dovrebbero afferire i posti letto tagliati all'ospedale di Noale sono posti letto di malati cronici. La lungo esigenza riabilitativa di Noale supporta malati con patologie post-acute, cioè pazienti usciti dai reparti per acuti e non ancora stabilizzati. non è la tipologia che... C'è qualcosa che non va nell'organizzazione sanitaria e abbiamo preso un'eccellenza sanitaria, preso il Veneto, cioè noi che abbiamo, sai, potevamo far gioco facile e andare a prendere forse qualche organizzazione sanitaria un po' più carente. Abbiamo potuto puntare proprio su una di eccellenza per far capire che forse manca qualcosa nell'organizzazione sanitaria, proprio in questo schema di lungo degenza, dove abbiamo detto che abbiamo dei casi che, come dire, sono malati terminali, abbiamo detto, sono malate neurodegenerative. Allora ecco, perché negli ospedali tradizionali, no? Allora, parlare del sistema sanitario nazionale, inteso come idea di sistema sanitario nazionale, è un tema complesso, no, complesso non rende, enormemente complesso. Da un lato perché, a mio parere, più che nostro, questo è un parere anche squisitamente personale, per risolvere una serie di carenze dovrebbe esserci una molto maggiore intesa fra pubblico e privato. Mi spiego meglio. Il pubblico italiano, il Servizio Sanitario Nazionale Italiano, è un'eccellenza mondiale. È un'eccellenza oggettiva. I nostri medici, i nostri operatori e molte delle nostre strutture sono prese ad esempio in buona parte del resto del mondo, in anche le nazioni dove noi pensiamo che invece la realtà funzioni molto meglio che da noi. Il problema qual è? Che a fronte di queste eccellenze abbiamo tantissime situazioni complesse, in molti casi incancrenite da gestioni errate fatte nel passato, da chi dirigeva le strutture, da una parte delle istituzioni. Adesso, a mio parere, la linea deve essere quella di andare verso un'intelligente gestione di pubblico e privato, perché quello che accade annuale accade in tutta Italia, ma in molti casi chi fa le scelte non ha un quadro completo di tutte quelle che sono le esigenze del territorio. Noi per esempio abbiamo dei territori in cui ci sono delle richieste di posti letto, per esempio su hospice, enormi e pochissimi posti letto e magari ci sono tantissimi posti letto per altre patologie o per altre situazioni che hanno meno bisogno. Perché questo? Non perché ci siano dei pazzi che gestiscono le situazioni, ma perché magari in anni precedenti la situazione era invertita. Adesso, qual è il tema? Il peggiore male delle nostre istituzioni in realtà è la velocità, o meglio, la mancanza di velocità. La burocrazia è lenta. E torniamo al ponte di Genova. La burocrazia è lenta, ed è lenta in realtà molto, cioè più per come è costruita che per incapacità. Io lavoro costantemente con le istituzioni, ci ho lavorato, ci continuo a lavorare, e alcuni fra i migliori manager, funzionari e impiegati che io conosca lavorano nelle istituzioni e fanno un lavoro straordinario. Il problema è che le volte le norme li vincolano e andrebbero semplificate, andrebbe sburocratizzate, un termine che sentiamo in continuazione da decenni, però fondamentalmente si è fatto molto, ma si deve fare molto di più, specie in situazioni come la sanità. Perché nella sanità perdere tempo vuol dire far morire le persone, o non curare le persone, o curarle male, oppure accade quello, rispondo io al sindacalista di prima, cosa accade quando non ci sono i posti letti nella tua regione? Che cambi regione. Quello che qualcuno definisce il turismo ospedaliero. Ma poi la sanità, se tu non rispondi subito, rischi anche di aggravare, e se aggravi peggiori i costi, quindi in realtà non esserti mostro prima ti costa tanto. C'è una malattia, patologia, che avete preso estremamente a cuore come Medica Group, che è quella dell'Alzheimer, e vediamo con quale progetto speciale avete voluto accendere un ennesimo punto di vista e di sensibilità rispetto al tema. Vediamo questo trailer di cortometraggio. Mamma, guarda. Non vediamo, papà. Papà. Ciao. Ciao. Sei bellissimo. Ora te lo ricorderai. È stato un progetto importante per voi, Messo? È stato un progetto estremamente importante, anche perché è stato il primo progetto di comunicazione che abbiamo voluto fare con la struttura che era appena aperta. Cioè abbiamo voluto investire in comunicazione, in comunicazione di responsabilità sociale, perché poi in realtà l'Alzheimer è la più nota fra le malattie neurodegenerative, non è certo l'unica, ma sono malattie che colpiscono oltre un milione di persone solo in Italia. Un milione di persone e milioni di familiari di queste persone. E noi abbiamo voluto mostrare con un'interpretazione straordinaria di Loretta Coggi, che tra l'altro saluto, che è una cara amica, una persona davvero, davvero una bellissima persona, che ha mostrato la vita, le ispezioni di vita di una paziente che è sofferente di Alzheimer, e in struttura, tra l'altro girato nella nostra struttura, e è stata straordinaria, perché ha mostrato degli aspetti di grande sensibilità e al contempo nel corto abbiamo voluto mostrare anche quello che era la vita dei familiari con una giovane attrice molto brava, che è Claudia Conte, che fa la figlia di Loretta nel corto, e pure qui un altro amico straordinario, anche lui come Loretta, che è Francesco Montanari, in realtà questi giorni lo vedo in tutti, ogni volta che prendo la macchina vedo il faccione di Francesco sugli autobus, che è in programmazione questo stupendo seriale Rai del Cacciatore. Spero di poterlo dire, e il corto a noi è piaciuto molto, tra l'altro... Scritto e diretto da Angelo Longoni. Da Angelo Longoni, un bravissimo regista, e tra l'altro quasi tutto il cast, anzi tutto il cast principale, ha avuto la sfortuna, ma che ha regalato una sensibilità personale molto maggiore di una normale, bella interpretazione, di avere... Cosa avete vinto? Qualche prima di vinto. E qui, tra l'altro, ci darei a ringraziare Diego Lighini nella sua veste di Tulipani di Seta Nera, perché noi abbiamo presentato il corto come primo evento proprio al tuo festival, e da lì poi è stato un percorso che si è conclusa la Festa del Cinema di Roma qualche mese fa. E ci ha dato grandi soddisfazioni da un punto di vista di feedback sia di altre strutture che curano malattie neurodegenerative, sia da tantissima gente che, grazie a questi dieci minuti, perché fondamentalmente questa è la durata, ha avuto uno spaccato di quello che può essere la vita di una persona affetta da questa patologia, e soprattutto di quanto sia difficile la vita delle famiglie di queste persone. Perché immaginare che tua madre non ti riconosca, o quando vede te, non vede te oggi, ma vede te quando eri bambino, e tu devi vivere in questa situazione, in questo contesto, è qualcosa di estremamente destabilizzante. E perché ci abbiamo creduto così tanto e abbiamo voluto investire in questo progetto? Perché il nostro modello, e te lo dicevo all'inizio della chiacchierata, è quello di sostenere anche la famiglia, oltre che il paziente. Perché il paziente è innanzitutto una persona, non è, e da noi non sarà mai un numero, tant'è vero che se tu, anzi, quando tu verrai nella nostra struttura, vedrai che ogni camera non ha un numero fuori, ma ha il nome del paziente. Gianluca, Diego, Loretta e compagnia cantando. E perché? Perché i pazienti non sono e non devono e non dovrebbero mai essere dei numeri, men che meno dei numeri economici. Devono essere trattati da persone, persone che hanno dei problemi, per cui persone più fragili. Ed è il motivo per cui, tra le altre cose, investiamo in comunicazione sociale, investiamo, tra l'altro, in progetti di responsabilità sociale. Tu c'è qualche progetto nuovo in cantiere? Sì, non ne posso ancora parlare, perché stiamo... Ma neanche l'argomento. L'argomento sì, stiamo finendo di costruire la progettualità, ma l'oggetto sarà mostrare ai cittadini, mostrare alla gente, la vita sia degli operatori sociosanitari, degli operatori delle strutture, dei medici, ma non solo i medici, degli infermieri, degli assistenti sociali, e il punto di vista del paziente rispetto a come viene accolto, gestito, curato, eccetera. E lo faremo con una veste totalmente nuova, utilizzando strumenti di innovazione che ad oggi in Italia non sono ancora stati usati, per fare questo tipo di ragionamento. C'è stato fatto qualcosa in America, ma in Italia assolutamente nulla. Ne abbiamo parlato anche, tra l'altro già, con il chiacchierato informalmente, voglio essere più precisato, col Ministero, prima ovviamente del caso, della situazione coronavirus. Adesso va tutto chiaramente in secondo piano, e bisognerà attendere che finisca, speriamo, la prima fetta possibile l'epidemia. Ma sarà molto bello. Speriamo di riuscire, salvo ritardi dovuti, in questo caso, come ti dicevo, non da noi. Ma anche perché, soprattutto, il tipo di pazienti di cui vi occupate voi sono quelli, diciamo, più messi a rischio anche da questa patologia, da questo virus. Quindi su questo c'è un'attenzione particolare, immagino, da parte vostra. Assolutamente sì, ma c'è un'attenzione particolare a prescindere. Nel senso che io non sono un medico, come ben sai. Mi occupo di sanità da un punto di vista comunicativo, da un punto di vista di relazioni istituzionali, da un punto di vista di responsabilità sociale, ma vivo con i medici. E ho imparato che anche in medicina, come in tutti gli altri settori, contano molto i numeri, al di là degli articoli di giornale, piuttosto che degli speciali. Conta leggere i numeri. Per cui anche sul tema del coronavirus, leggendo i numeri, diciamo che qualunque paziente di 80 anni che soffre di patologie gravi, cardiopulmonari o oncologiche, diciamo che può purtroppo venire a mancare per un raffreddore, come per il coronavirus, come per una caduta assolutamente sì, una caduta da una sedia, insomma. Parliamo di soggetti altamente a rischio, a prescindere, a prescindere. Assolutamente molto chiaro. Per cui io, come ti dicevo, non sono un allarmista. No. Facciamo una... Ecco, invitiamo un po' tutti i nostri spettatori a venire al Medica Group, che è in via, per visitare anche la struttura, perché se qualcuno, come dire, ha un parente, ha un amico, ha qualcuno che può avere un'esigenza di lungodegenza, Allora, innanzitutto... La struttura è a... A via Federico Calabresi 27, che sarebbe a pochi passi dalla metro Casilina. Metro Casilina. Davvero, credo che sia di fronte, fondamentalmente. E poi, per qualunque esigenza, c'è il sito... www.medicagrupp.info.info www.medicagrupp.info C'è il sito e quant'altro. Volevo ringraziare Gianluca Mello Mudo, responsabile della comunicazione della Medica Group Holding. La nostra intervista è finita. Grazie a te Diego, grazie. Speriamo di aver fatto, col solito, un buon servizio. Grazie a te, grazie agli spettatori che ci hanno seguito e a presto. A presto. Grazie a pubblicità. Mia nonna li attaccava per aria e dicevo, ma perché nonna attacca i prosciutti in cantina? Perché così vanno tenuti. Io, ad esempio, sbaglio, metto sempre il salame nel frigo e dopo un po' mi vengono fuori dei salami che sembrano persi di mano. Il salame andrebbe attaccato su... come qua, vedi? E si mantiene bello morbido. Se davanti al negozio di lattanzi passerai guardati intorno e distinto come Andrea Roncato entrerai. Antica Norcineria di Lattanzi Franco e Figli Via Casilina, chilometro 21 e 600 Laghetto di Monte Compatri Telefono 06 94 76 055 www.antica-norcineria.com www.antica-norcineria.com www.antica-nico.com www.antica-norcineria.com 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 al consumatore, roncato, queste me le mangio io, bene, bene, te le do una pure a te. C'è la crisi nel cinema, ti tocca venire a lavorare qua, hai preso la porchetta per tuo marito, brava, è così che si tengono in piedi i matrimoni. Oh, branca leone da norcia, veniva a mangiare la porchetta qua, la norcina di lattanzi, branca, 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 leone, leone, un altro po' va, la porchetta, ma sì, esageriamo. Antica norcineria di lattanzi Franco e figli, via Casilina, chilometro 21 e 600, laghetto di Montecompatri, telefono 06 94 76 055, www.antica-norcineria.com Grazie. Grazie.